Se invece d'altra parte partiamo con un armatore che ci dice voglio un progetto nuovo, a quel punto si aggiunge un aspetto rispetto a quello degli interior che è l'esterno, cioè l'involucro dell'imbarcazione. Ultimamente noi siamo coinvolti nella progettazione, negli ultimi 5-6 anni più o meno, siamo coinvolti nella progettazione di entrambe le parti, ma spesso ci si trova a collaborare con colleghi che si occupano solo dell'una o solo dell'altra. Nel caso specifico mi era sembrato interessante portarvelo perché è un ottimo esempio di collaborazione con i tanto odiati ingegneri, da parte no, odiati da parte gli architetti ovviamente, perché l'exterior è il frutto della collaborazione con lo studio hydrotec, Sergio Cuttolo è un ingegnere estremamente affermato che ha curato la parte di progettazione degli esterni e noi ci siamo ritrovati a decidere insieme a lui, a monte del cliente, il layout di questa barca. La differenza principale rispetto a un refit qual è? Che in questo caso i committenti sono due in realtà, da una parte il cantiere che ti dà mandato per costruire l'imbarcazione e immetterla sul mercato come sua linea di produzione, come potrebbe fare una piccola causa automobilistica. E poi l'armatore vero e proprio che di quel progetto si innamora, te lo commissiona e che poi ovviamente vuole un interior adeguato all'oggetto che ha comprato. Anche questa è iniziata nel 2013, è finita alla fine dell'anno scorso e anche in questo caso i disegni iniziali, quindi il procedimento è stato il medesimo. Quindi da uno schizzo iniziale alla costruzione, agli altri stadi di sviluppo che abbiamo visto prima. Ho portato questo progetto in particolare perché l'approccio, la progettazione degli interni in questo caso era leggermente diverso. L'armatore che è arrivato dai cantieri Palumbo ne ha ordinate due in contemporanea e questo svela un altro aspetto degli armatori, cioè quello di investimento nell'oggetto imbarcazione. Ne ha ordinate due con lo scopo di tenerne una per sé e charterizzare, cioè affittare, cioè mettere a lucro l'altra. Questo per due motivi, prima di tutto perché presentarsi da un cantiere e fare un ordine doppio vuol dire avere uno sconto, diciamo, che si può tradurre in qualche milione di Euro e quindi ottimizzare di fatto i costi per la propria imbarcazione. E poi perché si utilizza la prima, cioè lo scafo zero, insomma, come test dei propri desideri. Siccome poi quella barca, la prima, generalmente viene data in charter, cioè quella che si utilizza per la messa a lucro, alcuni piccoli dettagli in corso d'opera vengono cambiati, sviluppati. L'armatore che, spesso direi quasi sempre, ha la difficoltà a relazionarsi coi disegni, vive alcune modifiche, vive alcune volumetrie a bordo ed è quello che gli stimola piccoli cambiamenti, non radicali sicuramente, se il progetto è buono, ma piccole cose sì. Questo è infatti lo scafo numero uno, varato nel 2014, lo scafo numero due l'abbiamo presentato a Monaco quest'anno, quindi due settimane fa, più o meno. E quindi l'approccio diverso qual è stato? Dovete fare una barca che piaccia ai più, non mia espressione diretta, ma in un certo senso molto più simile a quella che può essere la progettazione di un ospitalici, cioè di una hall, di un albergo. Devo entrare a bordo e la maggior parte possibile, la stragrande maggioranza delle persone devono apprezzarla esteticamente, non devono trovarla eccessiva, non devono trovarla esagerata, devono in qualche modo rispecchiarsi nello stile presentato. E quindi questo si trasforma e si traduce ovviamente in, da una parte, la volontà nostra di apporre una propria firma, cosa che fa ogni architetto ovviamente. Dall'altra quella di creare un ambiente che fosse, forse più neutro, leggermente meno personalizzato rispetto ad una barca privata al 100%. Il procedimento però è simile, quindi disegni, poi la renderizzazione, in questo caso dal disegno al render, la paletta cromatica e la scelta dei materiali si è leggermente modificata, quindi con un contrasto un po' più evidente di quello che avevamo ipotizzato inizialmente, ma di fatto poi questa immagine è stata tradotta, arriviamo a vederla poi nel risultato finale. L'inserimento di una serie di accessori, il bar all'ingresso, che appunto forse in una bar fosse stata privata al 100%, forse non avremmo inserito, ma che invece era funzionale alla sua specificità, cioè alla sua necessità di essere in qualche modo ricettiva. L'unico ambiente che in qualche modo è stato trattato in maniera un po' più personalizzata era l'armatoriale, perché anche questa cabina spesso e volentieri non viene charterizzata, cioè non viene affittata, viene affittato il resto della barca, ma non la cabina che l'armatore, sebbene non utilizzi quella barca o non la utilizzi sempre, tiene per sé e che poi ha determinato invece lo stile a cascata delle altre quattro cabine del lower. Ovviamente il fatto di essere indirizzata al charter ha anche duplicato gli spazi, quindi i saloni non sono più uno ma due, perché magari gli otto ospiti a bordo non sono sempre dello stesso gruppo, oppure hanno esigenze nell'arco della giornata diverse, quindi la duplicazione degli spazi. Su un 40 metri è stato un po' complicato, perché di fatto è una barca per gli standard attuali piccola, che però insomma abbiamo affrontato appunto con Sergio in maniera abbastanza, ottimizzandone gli spazi abbastanza bene. Il risultato finale poi è questo, in cui si vede bene secondo me l'interazione tra l'architetto e l'ingegnere. l'architetto, noi siamo arrivati al tavolo dicendo voglio aprire tutto, apri tutto, basta, voglio vedere qualunque cosa e l'ingegnere mi dice no ti faccio un buco così, poi chiacchierando se ne è parlato, ma la reciproca stima poi ha portato ad un ottimo risultato, cioè la possibilità effettivamente di nascondere quasi completamente queste grosse finestrature su entrambi i lati del salone principale, che rendono l'ambiente insieme alla porta di poppa, quindi di fatto un al fresco, cioè un dentro fuori a tutti gli effetti e addirittura a quel punto Sergio ci aveva preso la mano e si è divertito anche a creare dei balconcini, cioè fare in modo che la balaustra laterale, ambo i lati diventasse balconcino, cioè si ribaltasse, si piegasse di 90 gradi, si intravede lì e si intravede il taglio qui, offrendo a chi è seduto nella lounge d'ingresso davvero una visione dell'acqua che era nella nostra idea iniziale, in qualche modo abbassando il livello della barca e portandolo più vicino all'acqua. Uno dei motivi per cui tanti armatori scegliono di ciarterizzare barche di queste metrature è proprio per capire, prima di comprarne una, è proprio per capire se il rapporto con l'acqua e il rapporto con l'esterno di quel modello o di quella tipologia di modello è nelle loro corde, esistono diverse tipologie di barche che rispondono alle esigenze diverse di rapporto con l'esterno. Questa ha avuto un discreto successo, stiamo costruendo infatti la numero 3, quindi è un repeat, perché la prima è in chart, la seconda è dell'armatore e la terza è stata venduta ad un altro armatore che è salito a bordo di questa due anni fa. Il bar che vedevamo all'ingresso e poi l'armatoriale, anche in questo caso dal render poi al risultato finale effettivamente i cambiamenti sono stati minimi, se no in alcuni forse dettagli delle cromie. I bagni, questo forse non l'avevamo visto prima o nell'altra, è il bagno armatoriale che è un po' una via di mezzo tra quello che si tende a fare e le volontà dell'armatore, cioè non c'è una duplicazione degli spazi al 100%, non c'è un bagno di lui, un bagno lei, ma una condivisione di uno spazio più grande, che ha soltanto la zona di C separata, ma comunque in un ambiente di circa una trentina di metri quadri grossomodo, perché siamo all'estrema prua sul tutto baglio, quindi su una larghezza di circa 7 metri e spiccioli per poco più di 3 di larghezza. Questo invece il salone, le foto del salone al ponte superiore e anche in questo caso l'aspetto più noioso e tecnico in cui ogni tanto dobbiamo, anzi che dobbiamo sempre affrontare e che dobbiamo cercare di nascondere il più possibile. Una parte del lavoro che ovviamente l'armatore non vede mai, ma altrettanto fondamentale per rispondere alle sue esigenze, una di queste ad esempio è un esempio dell'impianto di condizionamento, cosa fondamentale a bordo ovviamente, che doveva essere assolutamente non visibile, ma sovradimensionato, abbiamo infatti addirittura quattro macchine, quattro fan coil, per un ambiente relativamente piccolo, sempre per rispondere alla volontà dell'armatore di non avere rumori, non avere l'aria diretta e la nostra scelta in questo caso è stata quella di aumentare il numero dei condizionatori e abbassarne potenza e mandata in flusso, così come per l'armatoriale. Anche in questo caso la barca ha partecipato agli stessi due premi, non ha vinto l'altro, perché l'ha vinta l'altra, ma ha vinto lo Showboat Design Award, che è un premio a cui noi teniamo molto, perché forse è il più incentrato sia sull'innovazione stilistica quanto di sostenibilità ambientale, tant'è vero che la barca si chiama Sport Hybrid 40, perché sempre con Sergio ne abbiamo discusso, una delle volontà iniziali è stata quella di trattare sia la progettazione della nostra quota parte, quindi della parte degli interni, sia quella propulsiva nella maniera più sostenibile possibile. Monta un sistema ibrido della Siemens, quindi un diesel elettrico, assolutamente simile a quello di molte auto di adesso, con un'ottima capacità di navigazione in full electric, quindi esclusivamente in elettrico, che ad esempio le hanno concesso di diritti di navigazione in aree protette, di uscire dai porti senza emissioni, con molti meno rumori, motivo per cui appena presentata, proprio alla fine del 2013, ha vinto l'Environmental Award come barca fino ai 50 metri meno impattante dal punto di vista delle emissioni. La nostra parte è stata quella di agevolare il lavoro dell'ingegnere e di chi si è occupato della propulsione lavorando sui materiali, quindi i marmi che avete visto sono studiati con un'azienda di Carrano, una Loa Lim, che è riuscita ad affinare la tecnica dell'accoppiamento su Onicomb classico, cioè dell'accoppiamento di marmo e un sottostratto, che di solito è un tamburato in alluminio, fino ai minimi termini, cioè siamo riusciti a offrire lastre da 3 mm che hanno ridotto del 70% il peso dei marmi a bordo. Stessa cosa l'abbiamo fatta con i vetri, che di fatto sono dei trilaminati in policarbonato ultratrasparente per docce, vetrate e quant'altro. Abbiamo lavorato con un'azienda austriaca, la SWL, per tutto ciò che non si vede, cioè gli imbonaggi di legno a bordo. In questo materiale il Fuma Extra Slim, che ha un peso di circa il 90% inferiore rispetto al compensato marino e ha ridotto di quasi 5 tonnellate il peso totale solo dell'involaggio, quindi solo delle strutture che tengono, che non si vedono, della gabbia che tiene poi la struttura a bordo, proprio per arrivare al risultato che poi fortunatamente siamo riusciti ad ottenere, non soltanto noi ovviamente, ma come parte di un gruppo di lavoro. Ed è stata forse un'ottima iniziativa perché quella che ha dato slancio e nome al progetto e che appunto ne ha garantito poi un discreto successo commerciale fino a quest'anno.